La CGL chiede ed ottiene dal Ministro per la Coesione Territoriale Mara Carfagna l'impegno ad attivare osservatori con istituzioni e parti sociali del territorio su andamento progettualità e quanto comunicato dal sindacato a seguito dell'incontro sul tavolo istituzionale e contratti istituzionali di sviluppo capitanata alla presenza del segretario regionale Pino Gesmundo. In particolare si è riusciti a strappare la promessa ad attivare un osservatorio permanente per monitorare l'evoluzione dei programmi di investimento, la loro corretta attuazione e l'eventuale sblocco delle procedure laddove si presentassero ostacoli di natura burocratica. A questo si aggiunge un osservatorio ministeriale che coinvolga a livello territoriale la regione Puglia con il supporto dell'assessore al bilancio Raffaele Piemontese. I contratti istituzionali di sviluppo, ricorda Gesmundo, permettono di accelerare la realizzazione di opere ritenute strategiche e l'utilizzo di fondi strutturali europei che possono finanziare gli investimenti dei CIS oltre a risorse nazionali, comprendono investimenti che si sviluppano in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi e che necessariamente richiedono quindi un approccio integrato. Chiediamo allora sia necessaria una cabina di regia che tenga conto anche di altre misure e interventi a valere sulle risorse del PNRR o dei POR. Gli interventi immediatamente canterizzabili potrebbero arrivare fino a 280 milioni di euro. Si tratta di un risultato importante, aggiunge il segretario generale della CGL Puglia, che vale per Foggia così come per altri contratti istituzionali. Oggi ci sarà una uguale riunione per il CIS di Taranto. Da parte nostra saremo impegnati perché gli impegni ministeriali siano rispettati, ma quanto ottenuto è evidentemente un risultato importante che valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali.